Musica Emergenza coronavirus in Basilicata, 9 i contagiati di oggi, la regione piange, la vittima più giovane, un vigile urbano di 38 anni. Coronavirus e case di riposo, i sindacati chiedono un incontro urgente al presidente Bardi. A Vigiano il primo caso di contagio al Covid-19 è riaperto e sanificato all'ospedale di Villa d'Agri. Monsignor Ligorio stoppa a matrimoni, cresime, comunioni e feste patronali, amatera la preghiera di Monsignor Cagliazzo nella cappella dell'ospedale. A Policoro ritrovata la sedicenne di cui non si avevano più notizie dal 26 febbraio. Ben ritrovati cari telespettatori in diretta per un nuovo appuntamento con l'informazione di TRM. Tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Basilicata subito dopo la pubblicità. Restate con noi. Altre 9 persone in Basilicata risultano positive al Covid-19 e l'ultimo aggiornamento di mezzogiorno della Task Force nel prossimo servizio. Altre 9 persone positive al Covid-19 in Basilicata su 165 tamponi eseguiti, tre nel comune di Grassano, due a Potenza e una rispettivamente nei comuni di Venosa, Marsico Nuovo, Rapolla e Garaguso. Ai 235 positivi attualmente confermati in Basilicata vanno aggiunte 10 persone decedute, tra cui il giovane 38enne vigile urbano di Rapolla, tre persone guarite, un paziente di Gravina in Puglia riscontrato dall'azienda sanitaria di Matera, un paziente di Gioia del Colle e otto persone diagnosticate in altre regioni residenti in Basilicata dove attualmente si trovano in isolamento domiciliare. Sono 57 le persone ricoverate, nell'azienda ospedaliera San Carlo 17 nel reparto di malattie infettive, 13 in terapia intensiva e 5 in preomologia. Nell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 16 in malattie infettive e 6 in terapia intensiva. La Task Force Lucana ha precisato inoltre che tra i tamponi effettuati ieri ce ne sono due che hanno dato ancora esito positivo, ma riguardano pazienti avviati alla guarigione. Tutti i test positivi verranno inviati all'Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istante. Come anticipato nel servizio, la Basilicata piange la vittima più giovane, un vigile urbano di Rapolla. La Basilicata piange la sua vittima più giovane, un destino crudele si è abbattuto sulla famiglia di Giuseppe e la Rotonda, deceduto a 38 anni senza alcuna patologia pregressa. Da due settimane era in terapia intensiva nell'ospedale San Carlo di Potenza. Il vigile urbano di Rapolla in servizio a Melfi non ce l'ha fatta. Positivi al Covid-19, anche la sorella e il padre, quest'ultimo, è in condizioni più critiche ricoverato nel nosocomio del capoluogo Lucano. Una famiglia già colpita da un altro dramma. All'inizio di marzo, Pino, così era conosciuto, era salito a Parma con la sorella per riportare a casa la salma del terzo fratello di 26 anni, che era in cura in Emilia-Romagna per una grave forma di fibrosi cissica. A lui la Rotonda si era dedicato completamente nella fase terminale della malattia. Un uomo ben voluto dalla comunità amante della Basilicata, impegnato anche in politica. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati per il vigile urbano sui social. Ieri sera dal Premier Conte l'annuncio della proroga delle misure restrittive. Come avevano già anticipato il Ministro alla Salute Speranza, il Capo Dipartimento di Protezione Civile Borrelli, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha confermato la proroga con un proprio decreto delle misure restrittive attualmente in vigore fino al 13 di aprile. Non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e di risparmiarvi i sacrifici a cui siete sottoposti. Come ha detto lo stesso Premier, in conferenza stampa non è possibile al momento dire quando si potranno allentare le misure. Dovranno essere le autorità sanitarie a valutarlo sulla base dell'evoluzione dei dati sul contagio. I dati incoraggianti della diminuzione dei contagi proiettano l'attenzione alle fasi successive all'emergenza, che, come ha detto il Premier, saranno due e seguiranno quella attuale. La fase 2 è quella di convivenza col virus, di adottare delle misure che pian piano portano all'allentamento per poi entrare nella fase 3, che è quella dell'uscita dall'emergenza. La fase 3 è l'uscita dall'emergenza, il ripristino dell'assoluta normalità delle nostre attività lavorative, delle attività sociali, la fase 3 è la fase della ricostruzione, del rilancio della nostra vita sociale ed economica. Quanto all'aspetto economico immediato per fronteggiare l'emergenza, Conte torna sul decreto per assicurare liquidità alle imprese, che si spera possa essere sul tavolo del Consiglio dei Ministri già venerdì prossimo, e poi sul varo auspicabilmente prima di Pasqua di una sorta di manovra di nuove misure rilevanti. Infine una postilla sulla circolare del Viminale riguardante la cosiddetta ora d'aria per i più piccoli, come ripetuto dal Ministro Bonetti, dallo stesso Speranza e da vari altri esponenti istituzionali, con una sottolineatura volta a prevenire ogni forma di abuso. Non abbiamo affatto autorizzato l'ora del passeggio con i bambini, questo lo vorrei chiarire. In fase di interpretazione abbiamo semplicemente detto che se ci sono dei bambini e figli minori, quando un genitore va a fare la spesa, siccome i bambini sono gli unici che non possono uscire, si può consentire anche l'accompagno di un bambino. Ma questo non deve essere l'occasione per il genitore di andare a spasso e di avere, come dire, un allentamento. Sono 45 i casi di Covid-19 ad Altamura, nel vicino paese murgiano, tra cui 4 vittime. Il dato è stato reso noto dalla sindaca Rosa Melodia, 4 in più rispetto a due giorni fa. Per l'ospedale Perinei, dopo 750 tamponi, al momento i contagi sono 36, 21 per il personale sanitario e i dipendenti, 15 per i pazienti. I casi dell'ospedale della Murgia vengono classificati in base ai comuni di residenza, tra cui la stessa Altamura, ma anche Gravina, Matera e Bari. Intanto è stato riaperto oggi il comando della Polizia Municipale. Il gruppo FCA ha immatricolato a marzo 4.649 auto, il 90,34% in meno dello stesso mese del 2019, quando erano 48.109. Come era prevedibile, netto il calo nel primo trimestre 2020, con 85.875 auto vendute. Segno meno del 35% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Dal lingotto, stop produttivo confermato fino al 13 aprile sulla scia delle restrizioni governative, con periodo di cassa integrazione ai lavoratori. Nello stabilimento lucano di San Nicola di Melfi, la ripresa, ha dichiarato il segretario regionale della Wilm, Marco Lomio, dopo un incontro con i vertici nazionali, dovrebbe avvenire gradualmente solo per i modelli Compass. È una fase disastrosa, paradossalmente è in un trimestre ancora in positivo per quello che accadranno nei prossimi trimestri, perché i dati che ci hanno dato ieri, le flessioni saranno pari al 100%. FCA sta mettendo in campo tutto quello che è previsto dei decreti sulla sicurezza. Melfi è uno dei pochi stabilimenti che ripartirà appena i decreti ministeriali lo permetteranno. Dovremmo riprendere il 13 solo sulla linea della Compass, che è quella linea appunto del nuovo modello. Chiesto un sostegno al reddito e soprattutto, pena il baratro del settore, un rinvio a livello europeo del regolamento sulle emissioni medie delle nuove auto vendute. Sul processo dell'elettrificazione adesso l'Europa deve dire qualche cosa, perché è chiaro che i tempi che saranno dati, 2022, sono impossibili di attuazione, perché ci sarà una grande crisi di liquidità e due perché non ci sono proprio più le condizioni affinché il cittadino medio possa pensare di cambiare la macchina. Tra i casi sollevati nel settore metalmeccanico, quello dell'acciaieria Sider Potenza. Dopo la mancata sicurezza ed un caso di coronavirus, attaccano FIM, FIOM e WILM, i vertici aziendali negano l'anticipo della cassa integrazione. In un'azienda dove noi in queste ore avevamo fatto anche un'astenzione dal lavoro, proprio perché è legata ai protocolli. Poi è un'acciaieria, un'acciaieria che in questi anni ha avuto anche tanti lati oscuri. È il momento in cui tutti dobbiamo assumerci le responsabilità. Sull'emergenza, nelle case di riposo e nei centri di riabilitazione, i sindacati hanno chiesto un incontro urgente alla Regione. Alle persone con disabilità e fragilità, soprattutto anziane, è stata negata ogni forma elementare di difesa la Covid-19 e ora stanno pagando questa negligenza. Una preoccupazione già denunciata nei giorni scorsi e che trova conferma in quanto sta accadendo al centro di riabilitazione d'ogni occhi di tricarico. Anche nella distribuzione pubblica dei dispositivi di protezione individuale, oltre alle strutture sanitarie, bisogna privilegiare quelle socio-sanitarie e socio-assistenziali. I sindacati CGL e Cislewil chiedono pertanto al Presidente della Regione Basilicata, Bardi, un intervento a riguardo, verificando che ci siano le condizioni necessarie in tutte le strutture della Basilicata. Non possiamo permetterci che nel silenzio più assoluto il coronavirus continui a mietere le sue vittime tra le persone più fragili, che spesso non rientrano neanche nel conteggio dei decessi per Covid-19, perché a loro è stato negato anche il diritto alla diagnosi. Vogliamo sapere, scrivono i sindacati anche rivolgendosi all'assessore e alla sanità Roccoleone, se gli operatori socio-sanitari sono stati dotati dei dispositivi di protezione individuale, se sono state chiuse le strutture all'esterno laddove è necessario, se saranno sottoposti tutti ai tamponi per isolare i focolai e se sono state messe in opera misure organizzative straordinarie che consentano di produrre una separazione reale e concreta tra gli ospiti colpiti dal virus e gli altri. Riteniamo servano con urgenza, concludono misure specifiche e univoche sul territorio, prima che sia troppo tardi. Primo caso di coronavirus anche a Vigiano, intanto è stato sanificato l'ospedale di Villa d'Agri. Primo caso positivo al Covid-19 a Vigiano, in provincia di Potenza è tutto sotto controllo, fa sapere il primo cittadino Amedeo Cicala, che è intervenuto anche sulla situazione del nosocomio di Villa d'Agri, sta tornando ad esercitare le funzioni cui è preposto, fa sapere il primo cittadino e intanto interviene anche su come è stata gestita la situazione di emergenza nelle scorse settimane. Proprio nella giornata di ieri vi sono stati altri 60 tamponi che sono tornati negativi, quindi questa è una bellissima notizia per tutta la valle, una valle che si era tanto preoccupata all'epoca quando l'ospedale è stato sanificato e quindi sono state sospese tutte le attività per evitare che il focolaio si espandesse ancora di più. Devo dire che la scelta dell'epoca per chi l'ha praticata ha fatto bene, perché si è evitato davvero una espansione molto forte, perché purtroppo su tantissimi tamponi, su circa 300 tamponi, 4 unità di medici, chiamiamoli operatori sanitari, sono risultati appunto positivi e quindi meno male che vi è stata questa chiusura delle attività, questa sospensione delle attività e oggi si sta ripartendo. Pian piano si sta ritornando alla normalità, non è semplice perché tanti operatori sanitari non potevano tornare dopo la sanificazione al lavoro, proprio perché non avevano il test effettuato, il tampone processato, ma si sta lavorando in questa direzione. Il sindaco di Matera e i componenti della giunta comunale hanno donato 5.500 euro per l'acquisto di buoni spesa da distribuire alla casa di accoglienza Don Tonino Bello della parrocchia di San Rocco di Matera, gestita da Don Angelo Tatarani alla Caritas e alla Fondazione Antiusura Monsignor Cavalla. Si tratta di un contributo personale per venire incontro alle esigenze delle famiglie in difficoltà. Intanto il supermercato Interspar del centro commerciale Il Circo ha donato ai servizi sociali del comune di Matera 1.000 euro in buoni per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. Saranno disponibili nei prossimi giorni e serviranno per far fronte alle richieste delle persone in difficoltà e saranno gestiti direttamente dal comune per supportare una platea quanto più ampia possibile di cittadini in un momento in cui ogni attività economica è paralizzata. Ok, al trasferimento dei fondi al Consorzio di Bonifica per oltre 8 milioni di euro risorse che renderanno possibile il pagamento delle ultime spettanze dell'annualità 2019 agli oltre 4.000 forestali che attendono da oltre tre mesi in un periodo di grande emergenza ha sottolineato il consigliere regionale di Italia Viva Luca Braia e con il fermo delle attività a causa del coronavirus è di vitale importanza a riconoscimento del lavoro svolto nel 2019 che allevierà seppur parzialmente la condizione dei lavoratori. Alla platea forestale oggi più che mai spiega Braia va data certezza da parte del Governo regionale della prospettiva del comparto, dei tempi della progettazione e delle modalità di attuazione della selezione per l'annualità 2020. In una lettera spedita a tutti i sacerdoti della Diocesi, l'arcivescovo metropolita di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo, Monsignor Salvatore Ligorio ha disposto il rinvio, salvo deroghe del vescovo in caso di motivi gravi, di matrimoni, prime confessioni, cresime, comunioni, attività oratoriali e feste patronali. Tra le righe il pastore Potentino ha specificato come anche il ritmo normale della vita cristiana verso la Pasqua sia stato interrotto a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, situazione che impone rispetto delle misure restrittive sugli assembramenti e movimenti di persone. In riferimento alle nozze Ligorio ha chiesto di rinviare le celebrazioni a 2021 come già deciso da alcune coppie sulle feste patronali. Inoltre qualora se ne creasse la possibilità perché c'è stata l'emergenza è bene limitarsi solo alla festa religiosa. Un pensiero condiviso anche dall'arcivescovo di Matera Ersina Monsignor Caiazzo che oggi ha voluto celebrare la Santa Messa nella cappella dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera portando con sé il quadro dei pastori con l'immagine della Madonna della Bruna. La Vergine Santa vi benedica e vi protegga, ha detto l'arcivescovo di Matera Ersina rivolgendosi agli ammalati e ringraziando medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari per la bella testimonianza che stanno dando nel curare tanti fratelli e sorelle sofferenti. Nel ringraziare ogni singolo componente della comunità impegnato ad affrontare questa emergenza e nel giorno in cui ricorre il quarto anniversario della sua consacrazione episcopale Monsignor Caiazzo rivolge un pensiero ai sacerdoti particolarmente vicini nella distanza alle famiglie bisognose. Noi magari tante cose non le conosciamo, non le sappiamo, ma davvero ecco grati a Dio per questi preti che il Signore ci ha dato, grati perché soprattutto in questo momento di difficoltà, che è difficoltà per tutti quanti, loro non si stanno tirando indietro e stanno cercando di essere presenti in tutti e accanto a tutti. Ora il pensiero di Monsignor Intini sul centro Don Gnocchi di Tricarico dove al momento si registrano 40 contagi. Più volte ho dato voce a quello che è il desiderio della Chiesa in questo momento che è quello di stare vicino a tutti, soprattutto a coloro che sono stati colpiti direttamente dal contagio e anche nell'ultimo comunicato fatto ho cercato di manifestare tutta la vicinanza possibile ai pazienti, ai medici, agli infermieri, al personale OS e amministrativo del centro riabilitativo Don Gnocchi colpiti dal contagio. Siamo vicini anche concretamente con l'azione della Caritas che si sta facendo carico in questi giorni di quelli che sono le necessità, primo fra tutti anche dare da mangiare, quindi distribuire a casa il cibo a coloro che non hanno la possibilità di uscire e di fare la spesa. Esatto, ecco eccellenza, quello che serve in questa circostanza per non cadere nella disperazione è proprio rimarcare l'importanza del concetto di solidarietà ma anche di fratellanza. Sì, l'ha sottolineato il Papa durante la preghiera in Piazza San Pietro qualche giorno fa, siamo nella stessa barca, da soli non si va da nessuna parte, del resto prima che scoppiasse diciamo questo contagio nella nostra società c'erano dei segnali inquietanti di individualismo dove ciascuno pensava più a curare i propri interessi personali o di parte che non ad allargare lo sguardo verso le povertà, i bisogni, le necessità del mondo. Adesso ci stiamo accorgendo che tutto il mondo è paese, forse dobbiamo dire con questa frase fatta, ci stiamo accorgendo che abbiamo bisogno veramente di darci una mano e la solidarietà, l'attenzione, il venire incontro ai più deboli diventa una necessità per costruire una società che sia a portata di speranza e di pace e di crescita per tutte le persone di qualsiasi continente e di qualsiasi condizione sociale. La giornata mondiale dell'autismo nell'anno del coronavirus. L'Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici della Basilicata anche quest'anno ha rinnovato il proprio impegno per la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. In questo momento di grande difficoltà per le famiglie con persone autistiche, l'Associazione ha riflettuto su quanto il Covid-19 rappresenti un rischio dal forte impatto sociale non solo per chi è maggiormente esposto al contagio, ma anche per chi, come le persone con disabilità, necessita di attenzioni specifiche e coordinate. L'autismo ai temi del coronavirus per noi famiglie è ancora più difficile perché essendo un distruggo dell'interazione sociale, in questi giorni i nostri ragazzi stanno chiusi dentro casa e quindi hanno ancora più difficoltà rispetto agli altri perché molti sono abituati ad uscire fuori e quindi almeno ad avere quel collegamento con gli altri ragazzi che adesso a scuola e nelle terapie che fanno giornalmente non possono avere. Quindi soffiamo di più, non solo i ragazzi, ma anche le famiglie che in questi giorni li stanno seguendo a casa. In chiusura una buona notizia. Ieri pomeriggio i carabinieri di Policoro hanno rintracciato sana e salva la sedicenne che si era allontanata il 26 febbraio dalla casa famiglia Pipo Saus. Dei primi giorni successivi all'allontanamento i militari si sono messi alla ricerca della giovane cercando di comprendere dove si fosse rifugiata. Successivamente c'è stata anche la denuncia da parte dei genitori della ragazza che si era sommata a quella presentata dai responsabili della casa famiglia. Dopo giorni di ricerche le attività dei carabinieri sono state premiate quando la ragazza è stata localizzata in un'abitazione dell'agro di Scanzano Ionico e dopo un primo tentativo di fuga, grazie alla mediazione con alcune persone vicine alla ragazza, la sedicenne si è presentata nella caserma dei carabinieri di Policoro e dopo i primi accertamenti è stata affidata ai genitori. Grazie per averci seguito, a voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.